E' partito il servizio relativo alla garante dei diritti dell'adolescenza e dell'infanzia. Il professore Pira stamattina era con noi in una riunione e alla presenza del comandante dei carabinieri Ditto e del brigatiere Baschiera, degli uffici, l'architetto Vella, la dottoressa Piraneo, la dottoressa Mallia e il geometra Giacomazza e nonché alla presenza dell'assessore Arrama Domenico Coco. Si è parlato di futuro, si è parlato di percorsi educativi che hanno come centro i ragazzi la loro formazione e la loro crescita e si è parlato di un servizio che ripartirà, che riguarderà appunto le elezioni del baby consiglio comunale laddove i ragazzi possono capire, vivere la politica attiva e partecipare appunto alla gestione amministrativa e con proprie proposte, con proprie iniziative, oltre a tutto quello che riguarda il garante che è appunto la segnalazione di eventuali situazioni di criticità, l'ascolto, l'aiuto e il supporto alle famiglie e la captazione di eventuali criticità che riguardano i ragazzi e il mondo cyber. Si è parlato tantissimo di cyberbullismo e è un tema attuale con anche diciamo tutte le ripercussioni negative che un uso improprio di questi mezzi può dare con esiti e le cronache ce lo dicono tante volte in fausti. La proposta di regolamento che io ho fatto al Consiglio Comunale per l'istituzione di questa figura è importantissima, accolta dal Consiglio Comunale all'unanimità, è una proposta che mette al centro i ragazzi e il futuro. Abbiamo detto che sono i testitori della speranza e del futuro, le nuove generazioni, ma noi dobbiamo creare le basi affinché si possa crescere ed educare questi ragazzi a dei percorsi virtuosi al rispetto delle regole, della legge, ai principi della legalità. Quindi che dire, sempre più nella direzione della bellezza, sempre più convinti che noi siamo il presente e i ragazzi sono il presente, ma bisogna gettare le basi per un futuro in linea con un ambiente che deve essere rispettato e con un atteggiamento di crescita e di educazione e del rispetto degli altri. Oggi la prima riunione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza aereo al monte con i carabinieri, con le forze politiche rappresentanti all'amministrazione, abbiamo provato a gettare le basi per un lavoro che è quindi un minimo di cronoprogramma che poi deve servirci per poter lavorare insieme. È un momento bello perché significa garantire quelli che sono tutti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in un momento in cui vediamo che nel mondo questi diritti molto spesso vengono disattesi.